Dato che studio lingua al momento sono quelli di viaggiare, comunque di riuscire a trovare un lavoro, di realizzarmi, comunque con qualcosa che mi permetta di fare ciò. Lo Stato non ci aiuta a costruirci un futuro perché comunque continuo i tagli, anche ad esperienze come il Giffoni Film Festival ho saputo che purtroppo non vanno bene.